ciao ragazzi siamo tornati con un altro video e oggi ho un mio amico presentati i primi due sono gli scorpioni il primo è con macchie verdi e con tutta la palle bianca invece con l'altro e ha tutta la pelle blu invece gli occhi verdi and this is from the mountains and this is the yellow car with patterns and this is uh i don't know what is color yeah it is like really the same ok ora abbiamo le macchine gemelle questa qua è la questa qua sono le due macchine gemelle di formula una pro tutte gialle and this is like a two work cars and this is a fire truck and that's like a bucko that's what you call it invece qua ci sono due macchine molto particolari questa qua è un camion rosso e questo qua è un monster truck tutto blu poi dove abbiamo le macchine bianche and this one is crashed ok adesso abbiamo le due macchine grandi questa qua la prima è una ferrari tutta bianca invece l'altro è per salire le montagne e anche le colline più due brun loce and this is the blue car this uh this good this is a hat wheel ones and it have some yellow patterns on it and this one have blue orange and white patterns on it and this one have blue orange and white patterns on it now we have the family dei verdi Il primo è degli Angry Birds, scritto verde perché è un maiale ovviamente, e poi dopo l'altro è una macchina di Hot Wheels, una macchina da corsa, e per ultimo abbiamo C-Kicks, una macchina di Cars ed è del numero 86. E ora c'è la famiglia dei Rossi. Questo è un Ferrari con le patte bianche bianche, e questo è come una drugstore, e questo è un spiderman car. Ora, le macchine più futuristiche e più, come si dice, lontane, vecchie. Questa qua è una degli anni 70, che è di color vintage, ed è del numero 15. Invece l'altra è la macchina del futuro, del numero 09. Questa qua ha un motore di 24 cavalli, non lo so, però è molto bella ed è anche di Hot Wheels. Questa qua è una macchina di Cars ed è una macchina di Cars ed è una macchina, e questo è una macchina piccola. E questo è una macchina di Cars ed è una macchina, la macchina di Cars ed è una macchina per fare.... You are going to review. And it also has a big turbo. For Batman to go fast. And this is the pasting cup. Ok, ok, ok. And then for ultimate we are going to try how fast they are. Let's see who wins. Let's see who wins. Invece this one is the red one with the red one. And it has the model L. Ready? Let's see who wins. 3, 2, 1, go! I think I'm going to try. And the red. And the green now! Attack! No! No! The power of friend! No! No! Who just wins? A draw? Comment down below who wins. It's a draw. Comment down below who just wins! It's a draw. Ok. Comment down below. Bye! Subscribe and like this video. Don't forget to click the notification bell. Bye! See you later! Bye! Choo! Choo! Can we try again? I'm going to be the right one. Thank you. Ok. I'm not kidding. Maybe. I'm going to be the right one. I want another one. What? My pleasure. You are my pleasure. Oh, my goodness.